Ciao a tutti ragazzi, sono iPhone Amatore e come sentite la mia voce iPhone Amatore si sta riprendendo. Sono stato praticamente, anzi ancora sto un po' male, però sono stato, ciao piccolo lupo, sono stato male per quasi una settimana, cioè domani sarebbe una settimana precisa, anzi no, oggi è una settimana precisa, festeggiamo, festeggiamo. Quanti lupi ci stanno? Noi si amavano cappuccetto rosso, li mettiamoci i vostri. Allora, fermi tutti, fermi tutti, ok. Mi scuso per questi due giorni che non ho fatto neanche un video, ma da come potete capire, lui ha i filetti sulla felpa e io non potevo fare assolutamente i video se uno ha i filetti sulla felpa, capito? No, scherzo, allora, sono stato veramente male per due giorni, per questi due giorni. La tosse non pensate che se n'è andata perché non se n'è andata, al contrario di te che ora ti butto di sotto. E ora siamo solo in attesa dei 50 secondi che dove inizierà il tutto, il tutto il game. Ho messo la distanza... No, 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 no. Ho messo la distanza short perché tu hai i capelli short, quindi io ho messo la distanza short. Tu che non hai i capelli non la mettevo direttamente. Ma va bene, iniziamo tra 30 secondi. Comunque la serie della Yogbox inizierà il più presto possibile, anche se mi manca la Naughty Items, una roba del genere. Quella lì che mi dice come si fanno gli elementi. Comunque, iniziamo, 3, 5, 4, 3, 2, 1 tutto colorato, lui è. Bello, lui, tutto colorato. Ok? 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 Dai, forza, forza! Mazzavo, mamma mia! Quando ti lasciano tutto, ti lasciano proprio tutto. Ma, cioè, se uno sa i cosi... Com'è che si chiamano? Le ossa che c'è il kit Wolf è immortale, cioè, 3200 lupi, non lo so. Va bene, ma noi prendiamo sempre i soliti pezzetti di Egno perché, in quanto iPhone Amatore è sempre originale con il suo kit Eden. Ok, basta, ok, ok. Lui continuerà ancora con il suo kit Eden, appunto. Ho visto un pollo? Ah no, ho visto un lupo, strano, scusami. Eh, meno confuso scambiandolo per un pollo, ma invece no, era un lupo. Ok, già gente muore, non capisco come fa, ma va bene. Va bene, qui tutto bene. Torneranno anche gli amici di iPhone, tornerà Ziz, tornerà Dimitri se volete, tornerà un nuovo personaggio che creerò tra pochissimo. Lupi anche sugli alberi, è pieno di lupi, guardate i lupi che ci stanno, meglio scappare. No, no, io devo farmi il kit Wolf, porca punita. E boom, vabbè. Allora, andiamo a ammazzare al primo? Andiamo a ammazzare al primo, vai. Sempre, se è possibile. Sempre. È sparito. È sparito. No, ecco, se sta mangiando qualcosa sto zuzzo. Che ti mangi? Zuzzo, zuzzo. Zuzzo, che sei non zuzzo. Sei, ammettico che sei non zuzzo. Che pezzi di scappare? Se sei non zuzzo, non scapperai. iPhone di becca e tu lo sai. Non so non scappare, zuzzo mio. Che io ti prendo e ti stacco la capoccia. Ma perché ce l'hai girata la capoccia? Dove vuoi andare adesso? Dimmi, vai. Vuoi ammazzare al maiale? Pam. Lo stai? E da... Oh, mono. Mori. Ah, maledetto. Maledetto. Oh, che culo. Vedete, in lag, qualcosa serve, no? Un cacchio di arco. Ole. 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 Ammazziamo un maiale. Perché ci piace il sessunale. Ole. Ok. Perfetto. Andiamo. No, 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 no. Abbiamo il più vicino a 114 blocchi. 104 in questo momento. Più mi avvicino e più diminuiscono i blocchi. Ma non so qui a dire il quanto manca ad ogni personaggio. Quindi ci avviciniamo con cautela. Senza farci vedere come una piccola lupa. In questo caso lupa, perché qui è pieno di lupi. Questo è un vero pollo. Vediamo un attimo dove potrebbe essere... Oh. Ciao, bello. Ciao. Ma me sa che sei morto. Ah ah ah. Giuri di tutto l'anno. L'amore che te lascia nulla. Basta. Adesso è il più vicino. Chi è? Ok. Vediamo un attimo chi è che manca. Allora, c'è... In questa partita c'era Alessio 24-05, se non sbaglio. Poi Adian, per chi lo conoscesse. C'è uno degli admin. Diglio che è diventato admin da poco in questo server. Cioè in server Hunger Games. E va bene, mia gola si sta facendo sentire dove sei... Eeeh. Wee, kumbaa. Wee, ciao. Wee, kumbaa. Ciao, morti. Boop. Suona il mio campanellino. Guarda, guarda, ma suona. Suona il campanellino. Din-don-dan, din-don-din. Din-don-da-ron-din. Din-don-da-ron-din. Suona picco... Ma perché sei esploso? Ma guarda le cose dove ce l'hai. Eh, è esploso. Ho ucciso qui e... 3000 pezzi. Allora, buttiamo già le cose inutili perché... Mi sono accorto che se mi lascio le cose inutili dopo le cose che voglio non le tengo. Allora. No, la graffiti in table ci può servire. Le 4000 spade, l'arco non ci prega niente. La spada ce l'ho. Il piccone ce ne ho 3 e me ne servono al massimo 2. Anzi no, sapete che faccio? Se non sto troppo vicino lo faccio così. Eh, che fai magnamela? Che fai tazzardia magnamela? Non ho tutto questa magnamela se non sbaglio eh. Allora. Perfetto. Vediamo un attimo. Ok, ok sì. Aspettate. Aspettate che faccio. Tiro una freccia così almeno questa qui si aggiungerà alle 64. Via! Ok. 64! Ok, va bene. Va bene. Sta esagerando iPhone, sta esagerando. I bastuccini possono anche andare bene. Se ho 20 pezzi di... E ci siamo messi per bene l'inventario. Ecco qua. L'inventario ora è finito. Ora andiamo ad uccidermi. Forza, forza. Allora, allora, allora. Cambio 4000 voci al secondo. Vabbè. Faccio tipo 3000 voci al secondo. Mangiamo una mela. Oh biancaneve, mangia questa mela. Chi sei? Sei un lupo? Ti sei trasformato in un lupo? Dove può starse con lui? Un ignobile. Eh, allora sta sotto, sta, sta sotto. Eh, eh, sono due, so. Sono due, porca miseria, sono due. Vabbè, insomma, insomma, andiamo a vedere. Andiamo a vedere l'opo sta. Io intanto ho il mal di gru, la che mi si sta a portar via. Nel vero senso della parola, famo il parkour. Ale! Mamma mia, sei so bravo a far parkour. Dai, eh. E so bravo a far parkour. Sono bravo a piallare. Niente. Lasciatemi stare. iPhone amatore sta male. Sta male, quindi voi dovete capirlo. Ok. Eh. No, ma fatela una casetta. Non mi dica che stai là solo, perché sennò te l'hai angolata e te, te spiaccimo. Oddio! Non sono morto, era solo un'impressione vostra. Quelle impressioni che vi prendono quando pensate che io sono morto. Allora, vediamo un attimo. Soldin, soldin, soldin. Soldo di... Soldo di cacio. Vediamo un attimo se sta là sopra. No, non sta là sopra. Che è quello là? Sei un lupo. Sei un lupo. Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! È un... Knight! Sì, che tu sei un Knight! Adesso io ti vengo ad uccidere. Io ti vengo ad uccidere. No, mi dispiace. Il video finisce qua. Lui aveva chiesto anche di fare team, ma io non l'avevo accettato, perché dovevo fare il video. Ma io sono un idiota. Saluta iPhone idiota. Ciao ragazzi, sono un idiota. Va bene. Dopo questo video, iPhone Amatore non farà più video, perché morirà. Per colpa della tosse. Comunque ci sarà un contest a breve, molto a breve. Con quanto su Young Game sono riuscito ad arrivare a 450 coin. Quindi, ragazzi, sarete molto ben premiati. Un saluto a tutti da iPhone Amatore. Spero che finisca presto la mia piccola malattia, che in questo caso si sta diminuendo. Sembro un malato terminale, ma terminale con questa voce. Io ogni tanto faccio gli aguti, se ne siete accorti, ma vabbè. Un saluto a tutti da iPhone Amatore. Ciao!